Grazie Presidente. Abbiamo parlato spesso anche in quest'Aula della straordinaria generosità di tutte le famiglie italiane del terzo settore italiano per l'accoglienza dei 140.000 profughi ucraini arrivati dal 24 febbraio nel nostro Paese. Ne abbiamo parlato, ma come sempre in Italia tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il Governo aveva detto che si sarebbe fatto di tutto per favorire un'accoglienza diffusa, ma la realtà è stata diversa. La piattaforma per dare i contributi diretti ai profughi è stata attivata in ritardo. Nessuno dei 27.000 posti banditi dalla protezione civile è stato ad oggi attivato, anche se il bando scadeva il 22 di aprile. Parliamo di persone che dovevano essere accolte dal 24 febbraio. Non è stata ancora stanziata nessuna risorsa per aiutare le famiglie accoglienti e i soggetti del terzo settore che lo sostengono. Abbiamo imparato dall'esperienza che se si vuole l'accoglienza, se si vuole l'integrazione, servono risorse, serve un accompagnamento. La domanda è molto semplice. Cosa intende fare il Governo per mantenere la parola data sulla qualità dell'accoglienza dei profughi ucraini? Grazie. Grazie a lei. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di risponderle. Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti con riferimento all'accoglienza dei profughi ucraini giunti in Italia chiedono iniziative urgenti per accelerare i procedimenti e snellire gli addempimenti burocratici che ne rallentano l'accoglienza. Fin dall'insorgenza della crisi umanitaria, il Governo è intervenuto con una serie di interventi normativi intesi a garantire l'accoglienza dei profughi ucraini. È bene premettere che, in base al vigente quadro normativo, la regia delle specifiche modalità di accoglienza dei profughi, oggetto del presente atto di sindacato ispettivo parlamentare, ha scritto al Dipartimento della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per chiarire meglio i termini della questione è opportuno ricordare che il sistema di accoglienza delineato dal Governo si articola in tre grandi filoni. Il primo è rappresentato dall'autonoma sistemazione dei profughi presso la propria comunità in Italia. Il secondo è costituito dal modello di accoglienza diffusa ad attuare mediante i comuni, gli enti del terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, associazioni, enti religiosi. Il terzo, infine, è offerto dal tradizionale circuito di accoglienza gestito dal Ministero dell'Interno e dagli enti locali ed è incentrato sui centri di accoglienza straordinaria ICAS e sul sistema di accoglienza e integrazione il SAI. Mentre per i primi due modelli organizzativi, il Dipartimento della Protezione Civile e l'Amministrazione capofila, solo il terzo modulo afferisce a competenze del Ministero dell'Interno. Tuttavia, per restare nell'ambito delle modalità di accoglienza e di competenza del Ministero dell'Interno, informo che alla data di ieri risultano accolti nei CAS 12.550 profughi provenienti dall'Ucraina. Preciso che dall'inizio dell'emergenza il numero dei CAS attivi sul territorio nazionale è aumentato di 986 strutture per un totale di 7.905 posti in più rispetto a quelli già esistenti. Per quanto riguarda invece l'accoglienza nella rete SAI, alla data del 1 luglio risultano accolti 1.095 profughi provenienti dall'Ucraina. Anche per questo tipo di sistemazione è stata aumentata la capacità di accoglienza attraverso il finanziamento e la realizzazione di 7.000 nuovi posti. Infine, il Dipartimento della Protezione Civile, che ho a tal riguardo sentito, ha comunicato che il lasso di tempo trascorso per le iniziative relative all'accoglienza è dovuto al convergimento di notevili soggetti istituzionali, nonché all'esigenza di espletare, atteso che trattasi di cospicuo e risorse pubbliche, una pluralità di controlli preliminari. Grazie Presidente. Come noto, lunedì scorso, Abubakar Sumaoro si è incatenato qui fuori da Montecitorio per denunciare la continua tragedia di lavoratori, di braccianti che muoiono carbonizzati tra le lamiere roventi delle baracche. Come è successo qualche giorno fa a Yusufa Giuffe, bracciante di 35 anni, morto intrappolato nell'incendio della baraccopoli di San Severo Foggia. Non è accettabile che nel 2022 in un paese come l'Italia si verifichi una così impressionante negazione dei diritti umani, che venga palesemente calpestata la dignità umana. La politica eviti le parole vuote e metta subito in campo azioni risolutive. Per questo motivo chiedo alla Ministra Lamorgese quali interventi intenda porre in essere per garantire ai tanti lavoratori stranieri immigrati in Italia un sistema di accoglienza e di tutele in grado di superare il diniego sistematico dei diritti umani e per contrastare il fenomeno del caporalato. Grazie. Ringrazio Onorevole Dori. Le risponde la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Prego Ministra. Signor Presidente, preliminarmente informo che per superare gli insedimenti dei braccianti agricoli e favorire il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per gli stessi con decreto numero 55 del 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stati ripartiti a favore delle amministrazioni locali 200 milioni di euro nell'ambito del PNRR. Quanto all'insediamento spontaneo di Borgo Mezzanone, ad oggi la Regione Puglia ha provveduto all'installazione di 100 moduli abitativi prefabbricati nell'area adiacente Alcara che saranno destinati all'accoglienza di circa 400 migranti. La stessa provincia di Foggia è impegnata in un progetto che prevede anche lo smantellamento delle strutture poste all'esterno del compendio di Borgo Mezzanone, proprio per la bonifica e valorizzazione dell'area interessata. Questi interventi saranno realizzati in attuazione di un progetto finanziato nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata per un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro, a cui contribuisce anche il Ministero dell'Interno. Per fronteggiare i rischi connessi alle condizioni di degrado del sito, la Prefettura di Foggia ha provveduto a far attivare un presidio fisso di Vigili del Fuoco e un apposito hub sanitario. Non vi è dubbio che le iniziative volte al definitivo superamento degli insediamenti spontanei di migranti nel territorio della provincia e al miglioramento delle loro condizioni di vita costituiscono uno dei principali strumenti di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, visto che i predetti insediamenti fungono da principale bacino di utenza per le organizzazioni criminali che lucrano sul lavoro illegale. All'opera c'è un'intensa attività coordinata, sinergia interistituzionale, che ha trovato un avanzato punto di sintesi nel protocollo d'intesa sottoscritto al Ministero dell'Interno, unitamente al Ministro del Lavoro, delle politiche agricole, al Presidente del Consiglio Nazionale del Lanci e sulla base di tale strumento sono state assunte iniziative urgenti nelle aree più critiche del Paese, nonché interventi di sistema rivolti non solo ai profili di prevenzione del fenomeno, ma anche all'assistenza delle vittime e alla loro regolarizzazione sociolavorativa. Nel solco di tale protocollo si è affermato quindi un modello Foggia basato su progetti investigativi congiunti tra Carabinieri, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, Procura della Repubblica e l'attività di prevenzione e contrasto pianificata in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ha consentito di conseguire importanti risultati in termini di emersione delle irregolarità che caratterizzano il lavoro agricolo. Grazie Presidente. Signor Ministro, le cronache riportano ormai i quotidianamenti di una situazione molto allarmante dovuta all'aumento esponenziale del tasso di criminalità fra le frasce dei più giovani. I gravissimi e già noti fatti a cadute a Peschiera del Garda lo scorso 2 giugno non rappresentano purtroppo un caso isolato, ma ormai un preoccupante fenomeno di grave allarme sociale che sta interessando grandi città come piccoli centri del nostro Paese. Stanti i dati il BN 2020-2021 le segnalazioni riferite ai minori denunciati e arrestati in Italia sono cresciute del 14% ed è il 45% i minori denunciati e arrestati di origine straniera, immigrati di seconda generazione, un dato che in Lombardia sa addirittura al 53%. I numeri sopra riportati devono far sicuramente riflettere. Le bebegianti sono diventate un fenomeno molto diffuso che ormai sta dilagando senza freni nelle nostre città nonostante il grande impegno e la professionalità delle forze dell'ordine che sta creando una grave preoccupazione nelle nostre comunità. Un fenomeno è frutto di una serie di politiche che ad oggi sono state sicuramente sbagliate e penso che l'ultimo provvedimento, lo Uscola che si sta discutendo, non faccia anche peggiorare questa situazione. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di risponderle. Gli onorevoli interroganti chiedono di interventi per combattere il fenomeno delle baby gang in relazione al quale mi preme ribadire in questa sede che lo stesso non può essere circoscritto esclusivamente a un problema di integrazione degli stranieri per la semplice ragione che non di rado queste bande giovanili sono formate da soggetti autoctoni. Vorrei in primo luogo sottolineare che tale fenomeno rientra nella più ampia casistica della devianza giovenile come quest'ultimo è un problema complesso, comune a tante società avanzate e avente molte esplici cause che vanno dal contesto familiare alla dispersione scolastica e fin anche all'uso non appropriato delle tecnologie informatiche. Per tali ragioni dobbiamo essere consapevoli che la risposta delle istituzioni non può limitarsi ad un intervento puramente repressivo oppure indispensabile, ma deve orientarsi anche verso la prevenzione con adeguate politiche di riduzione del disagio sociale e soprattutto attraverso la promozione di una cultura del rispetto e la contestuale affermazione dello sviluppo di rapporti costruttivi e positivi in tutti gli ambienti, ivi compresi quello virtuale, entro i quali oggigiorno si esplica fortemente la personalità dei giovani. In questo senso il Ministero dell'Interno ha messo a punto un'apposita strategia basata non soltanto su appropriati dispositivi di controllo del territorio, ma anche su collaudate iniziative di carattere educativo e informativo. La Polizia di Stato è già da tempo impegnata nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul corretto uso delle tecnologie insieme a consolidate iniziative di educazione alla legalità nelle scuole per diffondere tra i più giovani il valore del rispetto di se stessi e degli altri e per combattere l'esaltazione della violenza e di idee ideali distorti. Inoltre sul territorio nazionale la rete delle prefetture ha attivato varie iniziative mirate al contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile. Si tratta di azioni focalizzate sul miglioramento della capacità di ascolto, di interazione con i giovani e improntate ad una sinergica logica di rete. In conclusione assicuro che il Ministero dell'Interno continuerà a mantenere elevata l'attenzione sulle problematiche rappresentate dagli interroganti e non mancherà di adottare tempestivamente ogni efficacia iniziativa per il contrasto del fenomeno in stretta collaborazione con i diversi soggetti istituzionali competenti. Grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Da quando le condizioni del mare lo hanno consentito l'ondata degli sbarchi regolari verso l'Italia è diventata inarrestabile. Dal 21 giugno in una sola settimana sono approdati sulle coste italiane oltre 2.000 migranti che fanno salire a quota 27.000 il numero complessivo degli arrivi dall'inizio dell'anno. Erano 19.000 o poco più nel 2021, quindi si tratta di 8.000 in più. Questi numeri sono destinate ad aumentare ancora. La crisi economica e alimentare derivata dal conflitto in Ucraina non faranno altro che peggiorare le condizioni già precarie di molti paesi, soprattutto africani, spingendo nuove andate migratorie verso l'Italia. Oggi viviamo in un sistema altamente compromesso per quello che riguarda la difesa dei confini, ma lei Ministro tace, permette che nella nostra nazione perversi un fenomeno fuori controllo che compromette la sicurezza pubblica e la stabilità politica e sociale della nazione. Allora noi ci chiediamo quali iniziative lei intende assumere sia a livello nazionale che europeo per intervenire concretamente e tempestivamente per bloccare questo fenomeno e difendere i nostri confini. Grazie. Grazie onorevole Vinci. La Ministra per l'interno dell'interno Luciano Lamorgese ha facoltà di risponderle. Prego Ministra. La scorsa settimana al Senato, in risposta ad analogo quesito posto dal medesimo gruppo parlamentare, ho avuto modo di soffermarmi sulle cause strutturali della crescita dei flussi, sugli sviluppi delle politiche migratorie a livello dell'Unione europea, posto che dovrebbe essere ormai chiaro che nessun paese da solo può gestire le migrazioni contemporanee. In quell'occasione ho evidenziato che lo scorso 10 giugno, insieme al Consiglio Affari Interni dell'Unione europea in Lussemburgo, è stato approvato un pacchetto attuativo della prima fase dell'approccio graduale in materia di migrazione e asilo, che prevede un meccanismo di solidarietà volto ad aiutare gli Stati membri di primo ingresso e due regolamenti finalizzati a rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea. Esso favorisce principalmente ai Paesi di approdo degli sbarchi, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ai quali viene assicurata l'offerta di adeguate quote di ricollocazione. E a questo proposito informo che sono state già avviate le piattaforme operative per la più rapida attuazione delle ricollocazioni. Oltre all'Italia vi hanno aderito 18 Stati membri dell'Unione europea e tre Stati associati. L'intesa raggiunta costituisce un avanzamento concreto verso una politica europea di gestione condivisa dei flussi migratori, ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità da sempre portati avanti dall'Italia in materia di governance migratoria a livello europeo. Questi progressi sono stati anche il frutto del confronto e del coordinamento tra i Paesi dell'Unione europea mediterranea di primo ingresso, che grazie all'impulso dell'Italia, al suo intenso lavoro di tessitura e interlocuzione è culminato nel vertice che si è svolto a Venezia con i Paesi del Mediterraneo Med 5 nello scorso 3 e 4 giugno. Aggiungo che proprio ieri io ad Ancaro ho avuto un bilaterale con il collega turco, nell'ambito del quale sono state approfondite le tematiche migratorie riguardanti i flussi provenienti dal Mediterraneo orientale centrale per impostare su base ancora più strutturate ed efficace la collaborazione in tema di contrasto al traffico illegale dei migranti e al terrorismo. Anche questo ulteriore tassello, che si inserisce nel contesto più ampio delle politiche italiane di governance migratoria, dimostra che la strategia internazionale di gestione delle migrazioni, dispiegata dal nostro Paese a livello bilaterale, è coerente e complementare con la linea perseguita in ambito europeo. Per quanto riguarda le politiche nazionali di accoglienza, anche in questa sede evidenzio l'assoluta necessità di fare rete, di superare la logica emergenziale, di mettere a sistema un modello di accoglienza e integrazione che garantisca condizioni di vita dignitosi e dal tempo stesso l'adesione ai valori fondamentali della nostra società.